Piccoli chef crescono tra i banchi di scuola a Montalto Fugo, dove le insegnanti della scuola paritaria Snelli educano i piccoli a conoscere le verdure e i cibi sani, ma anche a cucinarli. L'obiettivo è promuovere il valore affettivo ed educativo di conoscenza e divertimento del cucinare insieme per mangiare bene e condividere momenti di allegria. Allora ecco spuntare gnocchi, purè o la tradizionale insalata di patate e pomodori. Sono dei piccoli master chef oggi per Nutrilandia, questo progetto che da dieci anni educa i bambini alla sana e corretta alimentazione, non solo nella menza scolastica ma proprio come educazione all'alimentazione per la vita. Devono imparare già da piccolissimi a riconoscere i prodotti, il gusto, leggere le etichette e tutto quello che ha appunto a che fare con il Made in Italy puro. Ieri l'evento conclusivo del progetto di educazione alimentare Nutrilandia che sarà presentato il prossimo 18 giugno all'Expo di Milano. Come eccellenza calabrese. Alla manifestazione ha partecipato anche il consigliere regionale Mauro Dacri. Un plauso a questa scuola perché ha iniziato tanti anni fa questo percorso, ha voluto avvicinare questi bambini di questa scuola paritaria all'agricoltura. Quindi ogni anno si è fatto un percorso guidato con i bambini. Quest'anno c'è il discorso della patata dove ci sono tutti questi bambini che sono qui in cucina che stanno preparando le diverse esperienze sulla patata. Per poi approdare questo progetto, poi tutta la storia di questa scuola è stata scelta per Expo 2015. Quindici Progetto Grazie.